Prierata, prierata, giuvar combinata Prierata, prierata, čuvar combinata Prierata, 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 na četiri sprata Prierata, 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 na četiri sprata Prierata, 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 prierata 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 Prierata, 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 prierata Prierata, 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 prierata Non so che gli stvari sono passati, non so che si stavano. Che gli stavano da morte, che gli stavano da morte. Dopo che gli stavano un po' di malo stavano, poi si stavano una routine. Quando ero ancora orato, mi sento veramente a quella che è il strano. Quando ero orato da quattro anni. Quindi non volevo parlare? Non volevo parlare. Non volevo parlare. E poi ti senti un po' di più. E' stato un giorno un giorno. E poi dopo il secondo giorno di guerra ti senti che solo tu senti che tu resti i tuoi figli, i tuoi famiglia. Non è tutto il tuo, ma volevo che il sogno, e poi dopo di tutto, resti e vivi e vivi. E in una ricerca. E come te senti la stessa, Come si è piaciuto, come si è compresa. Come si è subito, non puoi andare a fare. Quando è iniziato il ruolo? Quando il suo sinistro è fuori da linea, il suo braccio è morto. E io sono iniziato a siedere. Molto semplice. Il mondo è stato come un dio di noi. È come un dno in un moro che si fa sveglia svojom florom e faunom, boju vode, prelom sviettlosti, odnosno, prijema svijeta. È un dno è come una cosa che definitivamente obilieggia da ti non sei ne sveglielo di togli? Da quando la madre mi ha detto che non abbiamo più bravi. Quando ho chiamato da cuore, non avevamo da cuore. Sì, ho scoperto la prima volta che la scuola. È difficile, non siamo imparati la struzione, non siamo imparati l'acqua, non siamo imparati l'acqua, non siamo imparati l'acqua, non siamo imparati l'acqua. e adesso devi andare a fare l'acqua. E non ti fai lavorare. Devi andare nervoso, non scoperto. Tu non hai la sensazione di come un metro che si facevano a tezza. Quando sei presente in accii. Quando sei in un'acciaio, quando sei in un metro, sei sei una cosa che si facevano, sei una cosa che siamo in un metro. E le tue, le tue, non c'è nessun aspetto. Tu non ti senti nessun aspetto, ma non c'è nessun aspetto a tutto così. Mi aspetto cadere di Izara, a non c'è venuto. Nientà se è mai nascito. C'è niente! È un'attara da me haggota. Ilندese da ragazza di tevi per me, come si è che dichiaravano. Ma ci tu siete i Santai Monica, ti siete a me con il chatar non sei che tu ero. Ma chi è andato da me, Non c'è nessuno, come uno che è in ruota. Non c'è una conzerva. Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Quando sei arrivato da noi, non c'è nessuno. 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 Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Per me è venuto il 21. april. Quando mio padre è venuto in il nostro stadio, in Travnico. Mi ha chiamato il mio mamma. Mi è venuto in una città, in una città. Mi è venuto in una città. Mi è venuto in una città. Col colonne il mio padre. Si è venuto il mio padre. Mi è venuto in una città, ma si è venuto in un altro. Mi è venuto in un altro. E mi è venuto in un'espresso. È passato alla città. È un'epoca attiva la un'epoca. È stata la situazione che, è venuto noi, che vogliano un'epoca, da prenderò il grado. Cosa cosa farebbe? Per me è stato un lavoro in 1993, quando mi è morto. Per me è stato un periodo. Cosa si può fare, cosa si può fare, cosa si può fare. Cosa si può fare. Alla volta pensi che potessi potessi fare tutti quelli che sono andati per il grado. e che sono... Io sono iniziato a posto e adesso quando ando a posto io provo, ma non posso prendere, perché mi è stato un pozzo, ovunque mi è stato un povaccio, ovunque è un povaccio, ovunque è un povaccio, ovunque è un povaccio, ovunque mi sono pensato che è il mio dio, ovunque mi sono pensato che è il mio sesto. E in questa preoccupazione e la visione da prenderemo a prenderemo un povaccio, io provo di toglieremo, a prenderemo un povaccio, un povaccio, un povaccio, e pensare che non è un povaccio, è un povaccio, quando mi sono davanti, quando non è un povaccio, è un povaccio, quando mi sono pensato, è un povaccio, e quando mi sono pensato, è un povaccio. Vedete, ovvero, apsolutamente dovremmo parlare. Apsolutamente sono l'accordo con Vamo. Non solo dovremmo parlare, e dovremmo parlare, o mio sudo, o neve situazioni in cui siamo in vita di vita, ad esempio, per la nostra vita, per la sua vita, la nostra vita, per la sua vita, per la sua vita, la sua vita, la sua vita, è stato così raccontato che si fa una scatare il risultato di un risultato, non si fa una scatare il risultato di un risultato di un risultato. Mi sono stati in una scatare quando è stata un granata esplodire. E' stato un risultato di un risultato di un risultato di un risultato di un risultato, che si è detonato in stanno, è stato diverso di stanno, una parte di solle, di solle, di solle, che è stata la nostra. Mi è stato un' sensazione, che è stato un'esplice, 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 perché si è il giudice, e così, e l'esplice, il nostro udaro, che si è stato un'esplice, la prima dell'esplice è stato un'esplice che ci siamo avanti e le persone, e quello che mi sono, questo è stato un'esplice, che siamo, ci siamo due, perché ci siamo due stavili, perché i nostri dici odiò si sono, a non si sono maiれないi, non si è mai stato un'esplice. 300.00, Abbiamo trovato Gacchana, che si sono tornati da casa, da Gacchka, da Mostara. Abbiamo trovato un mese di dana. Abbiamo trovato un giacchi dom, e quando abbiamo partito il primo pomocio, abbiamo trovato un panzerre, non avevamo l'ho. Abbiamo trovato l'ho. Sì, sono un po' di più. Ma tutti sono sempre otvorili le conservazioni e, da si sono fissati, sono un po' di più. E' un po' di più, è stato un po' di più. E' stato un po' di più difficile. Non si chiedeva quando si chiede. Non si chiedeva. Non si chiedeva. Non si chiedeva. Non si chiedeva, non si chiedeva. Non mi sono mai male, non mi sono mai male. Mi ricordo che è stato molto forte, e io sono stata con loro. Non ho mai avuto un pozzo. Non ho piaciuto. È stato un pozzo, un pozzo, un pozzo. È stato un pozzo. Cosa. Quando il camion è stato parquato, mi piacciono davvero il cuore, perché non si vede. Ad esempio, io ho filmato con Richard Giron, mi chiamato una scena, quando mi chiede. Normalmente, noi solo conosciamo, da ciò che abbiamo avuto, perché c'è stato un ragazzo per me, a mio ragazzo, un ragazzo è stato morto, ha preso la mano, ha preso la mano, ha preso la mano. È davvero bello guardare. E allora, cosa che conosco, e che ho fatto fatto, non sono stati più contenti. Il Giro è venuto e ha chiestato, ha detto che è ottimo. Il regista mi è venuto e ha chiestato. mi dicevano che volessero esimere il centro del mio amare. In me appunto sono stata imparata con un grande avvodo delle carri, le stavolosci grandi nostre stragi comunali. Come sono i 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 r? Cosa è stata la voviglia? Sve voviglia che sono ubiate, sono i due persone. Cosa è la voviglia di trenutка? Ci sono stati i due persone che non sono ubiate, ma ci sono le voviglie. Ci sono le voviglie di tutti i due voviglie. Cosa è stata la voviglia specifica? Cosa è stata la voviglia? Cosa è stata la voviglia, la delle persone che si sono rilasciato, la l'esccstoffe, che sono allenati! Ci sono stati e gli altri. Quali sono i due sono i due persone? Alla voviglia era l'escrittura del paziente che non ha rilasciato stringano. È stato quello che era il HVO? Sve voviglia! Cosa è stato attraverso? Sve voci avevano le loro salle di doverte, che sono rilassati normativi civilizzazione e rilassati. E quindi tutti sono rilassati? Non sono rilassati, ma non sono rilassati. Sve strane di rilassati sono in una condizione di rilassati. Rilassati in Zagrevo, quando ero in Gora. Rilassati in Crovatskia è stato rilassato. La storia è intima per me con la sua parola Radiovana Karalicica e la sua propria antroposta. Ho fatto 21 anni. E' stato dopo il giorno. C'è stato che sia stato stato un po' o più tempo? C'è stato 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 un po' tempo, anche più vicino e molto. C'è questo punto? C'è stato un po' di più o meno? in medie, mi sembrava che è stato anahrono, e non scrivono a scrivere il rato, o qualcosa di più altrui, o quello che viviamo adesso. Abbiamo venuto a Gans concerto in Kellogg, e arriviamo al concerto, e non c'è niente, non c'è niente che ciò che c'è. Abbiamo parlato di Gans, perché è venuto a noi. e non si diceva che non si diceva. La prima persona è stata proprio nella linea. E' la prima persona, nella dimensione. E' la prima persona. E' la prima cosa, c'è una calcolazione. E' una situazione in cui l'unico o l'unico, o l'unico. E' un'altra cosa, in un'altra cosa, è più relativamente Non è più importante, non è più importante. Se volessi resta l'unico o non è più importante, se volessi a chi è più importante. Non è più importante. Non è più importante. Non ho scoperto, sono venuto. E sono felice che sono venuto. Non è più importante. Il primo periodo del mondo è stato 1992-1998. È molto importante. È molto importante. È molto importante. È molto importante. Dove bisogna parlare del ubollismo? Non è necessario. E anche se ci sono persone che si sono venuti da partecipare, come vi dopo 10 anni, il tema di Poliš TV è il problema di guerra. Per noi è solo questo. Io sono in casa, in casa, in casa, in cui ero. Molto di persone non è tornato da qui, da qui, da qui. E quindi non è. Non è vero che il suo modo. Non c'è nulla, non c'è nulla, non c'è nulla. Tutti i ratti non c'è nulla. E' sempre una persona che ha pagato. Questo è uno dei più vidovani della libertà, perché i processi tranzicijali hanno potenzione la nostra ricerca del ratti. Abbiamo un'occhiazione che è stato un'occhiazione che è stato un'occhiazione. Mi torneremmo svegliere il rispondente d' combinazione dell'Italia. Mi hanno accennato una cosa sia un'occhiazione importante. E' un'occhiazione che è stato un'occhiazione. Rappariamo la nostra città. E' natura anche di tranzicijo, abbiamo una delle cose laissuroviste. Quando sono stata fermata, la prima guerra, Ma è tornata da quando. Ho stato stato il militare e la CSA. Che che si vedeions? Ho stato stato fatto? Non era un fatto che ho emprimato. È un'inforazionale. È un'esplice in quel momento? Cioè, quando mi arrivò? Ho quello che sono, a di cui sono stata, a di cui era stato 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 il stato delラ, il ragione è stato 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 ouelle. e tutti conoscivano che sono stata fatta da quanto tempo è stato fatta. Sono fatta da 78 anni, ma è stato fatta in Belgrado. È un vecchio, un vecchio, un vecchio. Ha detto che è ora in grado. Ha fatto un pozzo. 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 Che da se napraviti tolika dehumanizzacija da neko puca sniper na djecu i mi smo tamo blizu imali slučaj u školu Fatima Gunić gdje granate su explodirale u 11 sati kad je bila najveća koncentracija djeci. Prva je smjena izlazila, druga dolazila. To ne možete nikako shvatiti. To je nešto što ostane kao neko pitanje kako je moguće i drugo pitanje da li è moguće, perché sono già edukatori, di fare un'efficienza a fare un'edukazione, ma che si può fare una granita in cui non si può fare un'escrizione, da li è possibile, perché non è più l'escrizione. Per me è agresia l'ABIH è iniziata in sredo del 10. meseca 1991. nel Selo Ravno. Io ho così doživlato. La politica non è doživlato, ma per me è Selo Ravno, agresia na Bosno-Herzegovno. Perché le persone che hanno avuto la politica non sono conosciuti, non è il problema. Non è il mio problema. Sono stato 8 mesi in l'atomsco sconso quando è il 5. ottobre, 1992. la nostra grada, la Sibica, la prima volta. E poi sono tornato... A chi è... A chi è avuto la Sibica? 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 No, a chi è avuto la Sibica. Ma che ti suggeriscono? Ma sono d'ordine. Ma chi sono inordine? Ma chi sono inordine? Ma chi sono inordine? Ma chi sono. Ma chi sono? Ma non so. Ma sono state avuto unaグlazione. Ma il vero, è vero che avevo!! Ma questo è un film dò che ho stato stato avuto! era un malo di che era un malo mitico. Cosaica di Mila, da Bulatovic. Ma sai che? È stato un malo in un'acquanto, ma è comunque legato quando si è in un modo, come un'era un malo con il rato, perché si è in un'espatuto e si privelo con i quelli non si è in un'espatente. Si si riconosce, si riconosce e si riconosce. Si si riconosce, si riconosce, si riconosce, si si riconosce, si riconosce. e si è molto più vicino. E' logico di rato, perché tutti fanno partecipare di fare delle cose. Ma c'è questa nostalgia, che non c'è un po' di più. Non c'è il punto di vivere in un mondo, 22, 35 anni, o 32 anni, ma non è un mito. Non è un mito. Perché tutti i nostri erati nel rato, in Sarajevo, conosciamo la vita in Sarajevo. che mi conosciamo la quantità della famiglia della famiglia. Non mi chiamava la famiglia, non mi chiamava la famiglia della famiglia, ma la famiglia della famiglia della famiglia. La famiglia della famiglia sono stati spremi da pomogli a tutti gli altri. Siamo sempre come una famiglia e non c'è una famiglia che sono stati spremi da una famiglia della famiglia. E i limiti sono stati con un'esistenziale sicurezza. Paradoxalmente è che siamo stati sicuri perché avevamo un'esplosione per alcune persone. La scena è una sintagma che è un'esplosione. Ma c'è un'esplosione di Bosnia che sono stati spremi da un'esplosione che hanno un'esplosione in Sarajevo. Non solo in Sarajevo, ma c'è un'esplosione. Ma c'è un'esplosione più grande e più grande che credo che non è mai stato meglio. Perché hanno i loro firme, i loro persone, i loro persone, i loro stano, i loro stano. Ma c'è un'esplosione, i loro stano, i loro stano. Ma c'è un'esplosione. Ma c'è un'esplosione che non c'è un problema che la Bosnia è un'esplosione a un'esplosione di miliardi. Per loro è stato un'esplosione. Per loro è stato un'esplosione. Nessuno si è venuto. E non lo non si è venuto. Ma c'è un'esplosione che non si è venuto, su cui è venuto i raggi, a SaaS, Ed è quello anche da rimanere. È venuto pescrello. La raggiunza è venuto un'esplosione a fare cosìva. Se è venuto uno in preferenza. Per questo non si è venuto, e quello non è venuto. E' venuto da raggiunge, Era un'esplosione. Sve speciali. Sve su nascita bilo, no. Non si trattavamo. Trattavamo a salvare. Trattavamo a salvare. Prattavamo a salvare. E' così? Mi ricordo di perdere. O che è stato fatto? Mi sono trovato. I znam da se moja djeca voleva jest. U stvari, dobivali smo male paštetice. Pa se brašno upržavalo, pa da dobija se veća masa, ta se paštetica stavljala tako. Od germe isto pašteta. Onda pita od riži. koja se pokisali, preko noći stavim sirčeta i izmutio se kao jedna masa i doda samo jedna kaška mlijeka. U prahu, ako smo ga imali od toga, imalo je ukusira. Znaš koja dobra pita. Šta si ti jeo 1993? Od to da sam jeo išto? Razumijem? Svećam se zaista jako dobrih ljudi i komšija. Nas lično su spasile, da kažem, na određeni način u smislu mentalnog zdravlja. naše komšije, mulabdići sa 13. sprata i semira frašte, broj 5. Zato što su to divni ljudi. Mi smo se tek tada upoznali. Nismo se prije poznavali, mada smo prolazili u isti ulaz, možda skoro dvije godine. Ali smo dijelili iste vrijednosti. I mi smo mogli da pričamo o svojoj djeci jer su oni imali jednak odnos prema svojoj djeci. I ono, dolazili su nekada da nam donesu kafu, zato što mi ujutru nismo imali vremena da to ložimo, neku vatru u jednom malom šporetu koju je moj muž napravi od metalnih polica koje smo imali. Znate što su radili kod nas u zgradi? Lepo iskopaju dole zemlju, pa ako nađu neku ciglu, pa onu rešetku iz šporeta stavi i na tome se kuvalo napoj. A ja sam konkretno na laboru kuvala. U ratu sam jela razne recimo neke italijanske i šticarske specialitete. Naprimjer, ršti švicarski. To je onaj krompir, onaj sjeckaniji, pa se to nešto kupalačinka preprši. One neke riblje, štapiće i tako što. A šta je jela familija u ratu u Bosni? Pa, znam da je recimo moji roditelji i familija su jeli neke humanitarne konzerve koje su možda dobili ili nisu. Dobili neke leče, mahunarke, one, znaš, konzervsane, grašak i to. Ko je pobjedio ovom bratu? Niko. A ko misli da je pobjedio? Svi. Niko nije pobjedio. Znaš šta? To zašto sam se mi borili je bila utopija. Što ne znači da ne treba vjerovati u tu utopiju. Ja sam vjerovao u tu utopiju, vjerujem i sada je. A to što je, što se desilo tako kako se desilo, mislim, jednostavno, praca nije mogo izbići. i što je moje mišljenje. Meni je žao samo što nije taj, recimo, Alejezid Begović, koji je po meni najveći krivac za sve što se desilo u Bosni. Na stranu Karadžići to, mislim, počeo je od izraja za rat i potrebno dvoje, što nikad se upovijesti. Ratovanje nije desilo. Za rat je uvek potrebno. Jedan čovjek je jedno zlo. Jedan narod je dovoljen za rat. Znaju bit će rat. Mislim, šta ne rade? Ovaj govor je za rat potrebno dvoje. Za neku Jugoslaviju, za nešto. Mislim, Hrvatska je iz Gorla. Dalazi i Bosna, znaš što će biti. Ako si ti pokrenuo to, znači ti si pokrenuo protis koji zove izgradnje nacionaliteta. Za mene je se završio, u principu može... Rat. Možda se nikad nije ne završio, nekako kad ono sad razmišljam. A kada će se završiti? Kad ja... Rat će se završiti za mene, nekako kad ja skontam da sam stvar, da sam stvar, ovdje u našem društvu, smire nam. Ono da sam mirna potpuno. 86. Sanjam ti ja, kako gori Čašija, ali bez zajebanci. Nekakav sad neka morat prava, bez veze, ne znam šta mi bi, otkudnu tu, da ja bio četvrti, srednji ili treći. Imali posle toga pismeni rad na temu Sloboda i kako sam uvijek pisao pijesme da izađem raniješ časa da zapalim. Znaš, napišem pijesmu da se ne piegla, sad ne pišem nekakav referat nešto, nekakav pismeni rad, priču nekog. Na temu Sloboda. Bila profesorca pravo, mlada bila, starija od nas možda 5-6 godina. Avion. Si je poljubio? Ma, evo. Pitam, ja mogu da pijesmu kažem, možda napišem. Pijesmu kao na zapad, ona je sad na ovom našem albumu. Prvom, to je jedina stara pijesma. Benda je još predatna. E tad, 86, kad sam sanio, nešto mi se urezalo. Ja sam znao da će taj belaj biti. Jel si ti povijedio rad? Rekao sam srtu da sam popušio. A kod je povijedio? Pa nije nikom. Kod će povijedio? Kod će povijedio? A ko misli da je povijedio? E to, ko misli eno muhaga tamo, pa ne misli. Razumiješ? Svi smo mi žrtve u ovom ratu. Samo neko to prije, neko poslije. Svi. Ratni zločinac. Pa ne može biti jedan. Svakako. Vjerovatno od Miloševića je počeo. Kod bi ga sreli? Ne bi ništa uradilo. Ja sam osoba koja prepušta sve Allaho. Pa Milošević. I šta ti na pijec prodaješ i dođe ti Milošević? Daj molim te, kaže, jedna pola kila brokula i dva luka. A ti držiš nož. Šta mom ti onaj oku prerezala onaj pora? Vjeruj da ga ne bi služila. Šta? Ne bi ga? Ne bi ga uslužila. Što ga ne bi služila? Pa tako. Što je dosta, dosta, dosta nađa da je izginila zbog njegove usjane glave. To bi bio čudan susret. Jako je jači od mene. A mislim... Bilo bi to batina. Koja bi da bi je batina? Oba dvojica, vjerovatno. Oba dvojica. Ne bi prošao mimo mene da ga moja šakar ne udari. Ako bi nikoga u životu ubio... Nisam od tih koji bi ubijao. Njega bi rado ubio. Ako, apetit. Koga? I jednog i drugog. Kojeg? I Radovana i generala. Ti otvorio u jedanijes ujutro i teman postavio stolova i sve to. Juđe ti... Juđe ti Radovan Karadž kaže daj mi jednu škembe čornu molimte. Iz sjedme. Šta bi rado? Šta ja znam. Vidi, prije svega za mne izgost svisti. Znači, ne mogla tebe tretirat bolje nego tvojeg rana. Šta taš? Ako je Radovan Karadžić? Pa vidim. Ne znam, ne znam. Ne znam kako se ponašuješ. To glupo pitanje. Pa za to ti govori o to što ne znam nija. Pa glupo pitanje. Zašto ne znaš? Šta ne znaš? Šta ne znaš? Možda bi njega pojio. Ko zna. Šta ne znaš? Dopo il reino, dopo il reino, Dopo il reino, dopo il reino, a 4 sprata Šta je halal? Šta je aram? Ja očima šaram Šta je halal? Šta je aram? Da kradem il varam Šta je hvala? Mislim da nismo. Većina mislim da nije. Kako misliš? Mislim da bi se opet neke stvari dogodili. Na potpuno isti način. Mi u Bosni, ali tu prije svega mislim na Bošnjake. Baš na Bošnjake. Nismo shvatili jednu poruku koju su židovi poslali u svijet. A ta poruka je vrlo jasna i jarka. Da oni nisu posle drugog svjetskog rata. Snimali filmove, pravili slike, pravili knjige, pravili teatrske predstave. Holokaust. Danas bišće za pojam Holokausta. I ovo današnje poricanje Holokausta koje se dešava je nasilan proces. U odnosu na jedan prirodan proces koji su židovi emanirali od drugog svjetskog rata. u kojem su oni stvarali jednu energiju anti-Holokausta. Mog muža su odvali 17. januara 2001. godine na Guantanamo. Dakle, on je bio među osumnječeni nakon famoznog 11. septembra u borbi protiv terorizma. Bio je osumnječen za napad. U stvari bio je osumnječen kao grupa, takozvana alživska grupa, da se planirali napad na Američku i Britansku ambasadu. Naravno, nakon istrage koja je trajala tri mjeseca dobili se oslobađajuću presudu. i oslobođeni su svaki i sumnje. Onda, umjesto da se vrati kući, naš federalni mop ih je predao Američkom sforu. Od tog dana, ja više nikada nisam vidjela mog muža, niti sam čula njegov glas. Već punih pet godina on se nalazi na Guantanamo u ozloglašenom logor zvanom Kampen Delta. To nepričanje o ratu je jako loše. To vam je kao kad imate slona usred sobe, a svi se prave da ga nema. I u većini ljudi zaista nastoje da nekako prave se kao da to nije ne bilo i sve je to neko drugi kriv i tako dalje. Ja mislim da bi se konflikt riješio, on se mora na neki način deeskalirati. Bez obzira što je bolno, mora se o tome razgovarati. Patila sam, ali nemam o te priče ništa. Dajte nešto da idemo naprijed, da više što je bilo, bilo je. Znači i ne treba se pričati? Dajte da se radi nešto. Ja sam se vratila u državu da studiram. Za što se vratila? Vratila sam se iz želje da budem... Opet se došla gdje je lakše, tako sam i ja iz to. Ne, ja sam se vratila... A uvijek gdje je lakše? Ja sam se vratila iz potrebe i želje nekako da... Znači da što je lakše nakraviti karijeru... Jer sam među svojim ljudima, je li to? Naravno. Kako da ti kažem, dokle god postoje neke stvari koje nisu izvedene na čistac, ti imaš osjećaj neke trulosti da je sve što je ljudski vrijedno nije priznato kao vrijedno. Recimo, učenicom Nijani Žara Ahmetašević izpričala priču zanimljivu sa o Manestiru na Gučagori, gdje su mđajdini bili u ratu. I kaže da su na freskama, da su kopali likovima oči. To je bilo tad kad je bilo, sad su to obnovili normalno. Što je mene onako... neki... hiperliterarni moment, znači. nešto čega možeš... sašta na prvi. Bez obzira koliko je dugo trajalo, bez obzira koliko je teško bilo, čovjek mora vjerovat da će pravda pobijeti. Jer ako ne bi vjerovali da će pravda pobijeti, onda bi sigurno pravdu uzeli u svoje ruke, a to svakako ne bi bilo dobro ni za jednog čovjeka vjernika. S jedne strane, s druge strane, mislim da tada pravda ne bi bila zadovoljena jer bi bili izjednačeni oni koji su činili nepravdu i vi koji ste na isti način radu. če bi ti bio da nije bilo rata? Bio bi u... če bi bio? Da nije bilo rata? Bio bi... možda ne bi bio onde gdje sam sada, ali bi bio tu. Možda bi držio nešto svoje? da nije bilo rata. Vjerovatno bi bio pisac, ali... možda ne bi to išto tako brzo. pukli smo, znači. Neko izganja taj papir, nosa ga u džepu. Neko bez toga, ali... kad dođe ljuzi iz bjela svijeta, kad nas vidi... To bi ste kao... Boga nisam... Noću sluškuješ danju, osmatraš tosti dužnosti na liniji. Između toga i nema ništa. Jedeš kada ima hrane i vremena, pušiš sa užitkom. Spavaš rijetko. Pretvorio su se u skup izoštrenih čula, računaš također na faktor sreće i na još ponešto. Imaš i amailio radi uroka. Unatur svemu vjeruješ da nećeš preživjeti. Navikavaš se na smrt i baš to te održava u životu. Zubila im nešajtanirajim, bismillahirrahmanirahim. Alhamdulillah, rabihalemin, rahmanirahim, malkio midini, ake nabduve, ake nestajnih, nehti ne siratil mustakin, siratil lezine namta, alehim gajn maktubi, alehim veledalin, amin. Pače, sitni mišiće, so gandol mu sar mu sahan, šarenu, klepe, tripice, šufta, kolačiće, šiš, ležu, tikvice. Ja se zovem Safet Buljko, rođenom starom, živim u Sarajevo, a moje opredeljenje je naša Bosna i Hercegovina, naša evropska zajednica, imam čerke u Americi i sina, također hvala jednoj Ameriki što je dala, utočište našim mnogim izbeglicama, nažalost smo i tamo, ali ja vjerujem, jedno vrijeme oni će doći, ali to će biti za mene kasno, ja će možda biti ili na Barama, ili u Šojnovcu Mustar. Hvala što pratite. Hvala što pratite. Hvala što pratite. Hvala što pratite.